Cari amici, la Repubblica si è rinnovata sotto la guida del nuovo direttore Carlo Verdelli e da un paio di giorni pubblica articoli che potevano tranquillamente campeggiare sulla prima pagina dell'unità del 1950. Oggi l'editoriale di Ezio Mauro, già direttore dello stesso quotidiano, Ezio Mauro analizza il presente e ci dice che orde di neofascisti sono pronti a conquistare il potere in Italia. A quali orde si riferisca è abbastanza chiaro, agli gruppuscoli di estrema destra come Casa Pound e naturalmente al leghismo che sarebbe una forma di criptofascismo più o meno. Naturalmente Mauro ci dice che la forma di questo fascismo è diversa da quella del ventennio ma la sostanza è uguale. Però di dare, diciamo, etichettare come fascismo ogni cosa non sia di sinistra è un errore dialettico e intellettuale. Il fascismo nasce come un movimento non ideologico però dopo quando diventa regime diventa una dottrina dello Stato ben precisa e per niente compatibile con le idee secessioniste ormai tramontate ma comunque che stanno alla base della Lega, della storia della Lega. A parte questo Mauro rincara la dose e ci dice che tutti coloro che non condividono questa opinione sono negazionisti. Negazionisti. Negazionismo a casa mia va a indicare chi nega la realtà della Shoah. Ora, usare le parole a caso non è corretto. In questo modo, prima o poi, qualcuno si sveglierà e dirà ah, maledetti negazionisti, adesso ve la faccio pagare.